Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Oppure, diciamolo, Tommaso Montanari si colloca in un'area di sinistra accesa, diciamo, radicale, Benno nell'estrema destra americana. Beh, però l'ho sentito con grande interesse, peraltro complimenti l'intervista a Steve Benno, veramente un colpaccio averlo intervistato in questa fase. Rispetto alle posizioni del professor Montanari, gli intellettuali la chiamerebbero l'eterogenesi dei fini, cioè alla fine tu parti da posizioni diverse ma arrivi alla stessa conclusione. Non è una novità questa. Viene spesso che le posizioni, diciamo così, di una parte della sinistra coincidano con quella della destra. È successo già in altre fasi. Ma nel merito, secondo me, il professor Montanari sbaglia in una cosa nella ricostruzione. L'Europa ha tentato in tutti i modi di evitare la guerra. L'ultimo colloquio tra il premier Macron e Putin, quella famosa immagine iconica del tavolo lunghissimo, dimostra che l'Europa fino all'ultimo ha provato a tenere Putin inchiodato a un'idea di trattativa di un tavolo. Quindi dire che è tutto uguale, che l'Europa bellicista, voluta... Oggi certo ci siamo schierati, ma difendere la democrazia è un valore. Cioè difendere l'Ucraina e soprattutto il diritto del popolo ucraino a vivere libero e in libertà è un valore assoluto, è un valore fondamentale. Questa è una guerra in cui un paese ha aggredito e un altro paese si sta difendendo... Allora, Montanari rapidamente, poi ho una domanda per l'ambasciatore Feroci. Drammaticamente semplice questa volta. Allora, io credo che il compito dell'Unione Europea in questo momento non sia identificarsi con gli ucraini dicendoci che noi dovremmo combattere per la libertà e il costo della vita, ma sia sottrarre gli ucraini all'alternativa del diavolo fra la vita e la libertà. La libertà è la cosa che ci è più cara. Ma guardi che stanno combattendo loro. Posso finire? Noi, professore, l'unica cosa che possiamo fare è aiutarli con le armi, non mandando i nostri soldati lì. Ce lo chiedono loro, loro chiedono le armi per difendere la loro democrazia e dovrebbe interessarci. Loro chiederebbero anche la chiusura dello spazio aereo e gli aerei e sappiamo che questo non glielo possiamo dare. Perché Putin è all'atomica. Sappiamo che non li possiamo aiutare fino in fondo. Abbiamo giocato a scacchi sulla scacchiera ucraina. E qual è l'alternativa? Scusi, è che noi non avremmo potuto difenderli fino in fondo. La libertà è la cosa che ci è più cara, come sa chi per lei vita rifiuta, diceva Dante. Ma noi che non siamo sotto quelle bombe avremo il dovere di sottrarli all'alternativa fra morire o essere schiati. No, ma la sua è una posizione intellettuale molto rispettabile, ma è una posizione da salotto. È rispettabilissima la sua posizione teoretica. Vediamo un attimo, fermiamoci un attimo.